Da un po' di respiro la manovra, battistuta, battistuta per Torricelli, è scattato intanto Edmundo, Edmundo, la palla per Oliveira, Oliveira, la finta, Oliveira, è clamoroso l'errore di Oliveira al 39esimo minuto. Edmundo, un assist per Oliveira che ha cincischiato davanti a Peruzzi, fallendo un gol, impossibile da sbagliare, attacca comunque ancora la Fiorentina, battistuta, toccato da Davids. Probabilmente adesso la regia ci riproporrà l'azione di Edmundo, rivediamo la finezza, la palla d'Oliveira solo davanti a Peruzzi, guardate cosa fa Oliveira. Siamo tornati con le immagini in diretta, Morosso, battistuta, Oliveira, Oliveira, il tiro e il pallone che termina sul fondo.